Possiamo dire, Sindaco, a questo punto, qual è stata la marcia in più? È stato il partito, è stato l'accordo che c'è stato con Esposito, sono stati i cittadini che hanno capito e hanno compreso il programma? È stato il grande lavoro di squadra che noi siamo stati capaci di fare. In tre mesi abbiamo ricostruito una coalizione inesistente, ma al di là della coalizione politica, tutto il centro-sinistra, un grande gruppo che ci ha creduto sempre e poi abbiamo avuto il calore e l'entusiasmo dei cittadini. Io voglio dedicare a loro questa vittoria, se sarà confermata come credo, perché hanno sofferto per troppo tempo. Credo che noi abbiamo avuto in più la credibilità, la credibilità sicuramente, la nostra storia personale, è stato un gruppo che ci ha creduto senza doppiezze, ha parlato chiaro ai cittadini guardandolo negli occhi e credo che i cittadini non aspettassero altro da tempo. È una svolta per Baronissi, sicuramente si cambierà e credo che faremo di questa comunità, lavorando tutti insieme in squadra, con questo meraviglioso gruppo di persone, non soltanto i candidati, gli eletti, ma tutte le persone che ci hanno sostenuto, delle fila che si ingrossavano ogni giorno di più, entusiastiche. Faremo di Baronissi una bellissima comunità, lavoreremo insieme, lavoreremo con il cittadino, mantenendo al centro dell'attenzione la persona e i suoi bisogni, che qui a Baronissi sono anche notevoli.